Torino ha ospitato una delle tre tappe di Supernova, festival che mette a confronto il mondo dell'innovazione digitale 2.0 con le grandi industrie e le aziende italiane per far nascere sinergie e contaminazioni. Nei Dome, in piazza Carlo Alberto, si sono svolti vari dibattiti, dal food al lavoro, dal gioco al design, passando per gli universi della social innovation, della sharing economy, dei makers, dell'open innovation e dell'internet of sync. Perché Supernova in Italia e in Europa e perché Torino? L'idea di portare l'innovazione è raccontarla direttamente nelle piazze, nelle città, un mondo che va raccontato perché è un mondo che sta cambiando intorno a noi e l'obiettivo è invece portarlo a chiunque, dai bambini alle imprese, a tutte le persone e i cittadini di questa città. Perché Torino? Perché è una delle capitali europee della cultura e questo ruolo forte che ha avuto nel passato va ripetuto oggi anche sul mondo dell'innovazione e quindi abbiamo scelto di fare una delle tre tappe europee di Supernova quest'anno, proprio qua a Torino. Cosa vi aspettate da questi due giorni di Supernova a Torino? Beh, sicuramente è un grande momento di energia, quella che abbiamo voluto portare in piazza, dedicata al mondo dell'innovazione, dedicato a tutti, e contaminazione, l'altra parola chiave di questo festival, perché l'incontro fra tutti questi player possa generare ancora innovazione.